Ciao, benvenuti in questa pillola tutorial, sapete che questa è la sezione dedicata ai tutorial di SMS Hosting. In questo video risponderemo ad una semplice domanda, che però è molto molto interessante. Ovvero, come possiamo inviare una richiesta automatica di recensione alle persone che vengono ad utilizzare un coupon nel nostro negozio fisico? Allora, quindi facciamo un esempio. Noi, vi faccio proprio un esempio pratico di un caso che secondo me è molto molto interessante. Facciamo una campagna di lead generation, magari facciamo una Facebook Ads locale, in cui ci facciamo lasciare il contatto in cambio di un coupon sconto di 5 euro da venire a riscuotere il negozio. Allora cosa faremo? Creiamo la nostra Facebook Ads, creiamo con SMS Hosting un form di raccolta contatti e come risposta automatica al form daremo un coupon sconto digitale. Questo ve lo mostro stravelocemente perché c'è già un video relativo alla parte, diciamo, della creazione del form. Quindi, semplicemente, in maniera molto veloce, vado nella sezione coupon digitali, creo una campagna coupon, invio un coupon diverso per ogni destinatario, in questo modo io riesco a avere ogni persona che si iscrive un coupon diverso, riesco a tracciarle e la salvo. Vado, contatti, form raccolta contatti, creo un nuovo form in cui come risposta automatica ho uno sconto, quindi per esempio un buono sconto via SMS. Configuriamo il form, andiamo via veloci, andiamo, come vi ho già mostrato altre volte, a modificare, se vogliamo aggiungiamo altri campi, insomma, tutte le poi le nostre richieste di consensi, anche qua ci sono appunto tutti i tutorial del caso. Azioni, inviamo qui un email o SMS con coupon. Coupon dinamico, scegliamo la campagna che era Facebook Ads, e invia la risposta via SMS, il tuo codice di sconto è coupon. Qui mettiamo il nostro mittente personalizzato e questo SMS qui sarà l'SMS che ricevono le persone che si iscrivono al nostro form di raccolta contatti, che possiamo inserire, come vi ho detto tante volte, in una landing page, nel nostro sito web, oppure condividere direttamente tramite link. Bene, man mano che i nostri contatti si iscrivono, io li troverò all'interno della nostra lista contatti. Quindi, per esempio, se io Marta mi iscrivo a questo form, ok, dichiariamo, eccetera, quindi arrivo al Facebook, mi iscrivo, grazie, riceverò un SMS con coupon sconto. Andiamo nella nostra lista contatti, vado a ricercare Marta, che sono io, vedo che si è iscritta, eccetera, eccetera, che mi ha lasciato i dati, che si è iscritta alla campagna Facebook Ads, che ha ricevuto questo coupon qui, che gli ho inviato adesso, che era proprio della campagna Facebook Ads. Allora, posso segnarlo qui come utilizzato, quindi, lista contatti, l'utente arriva in negozio, lo cerco per nome, e poi vedo i coupon a lui associati, oppure, altro modo, vado nella campagna coupon digitali, trovo che la campagna Facebook Ads ha un coupon emesso, lo segno come utilizzato quando l'utente viene in negozio. Noi però, prima di farlo, quindi prima che Marta vada in negozio, facciamo un'altra cosa, ovvero, predisponiamo alla richiesta di recensione. Clicchiamo su Automazioni, Workflow, I Workflow sono dei messaggi delle serie automatiche che scattano ad una determinata verificarsi di situazione. In questo caso, andiamo a creare un Workflow in base all'attività dei coupon. E quindi diciamo che, quando viene utilizzato il coupon dinamico Facebook Ads, che è quello che abbiamo creato, e si utilizza il coupon, attendi un giorno, mettiamo dopo l'evento, e poi manda un'email, facciamo un sms come volete, un'email con la richiesta di recensione. Quindi aggiungiamo un contenuto che vogliamo, un'email che vogliamo, qui vedete che possiamo partire dai modelli, insomma poi decidete voi come strutturare la vostra email. Qui quindi potremmo scrivere grazie per essere stato con noi, essere stato da noi, bla bla bla, ci ha fatto molto piacere. Se ci lascia una recensione, per noi sarebbe davvero molto importante. Button, lascia recensione, mettiamo il link che potrebbe essere al nostro Google My Business, quindi la recensione di Google My Business, la recensione di TripAdvisor, di Trustpilot, dipende proprio dallo strumento che poi utilizziamo per raccogliere le recensioni, anche per esempio le recensioni di Facebook, insomma come volete. L'importante è chiedere la recensione e qui la chiediamo in automatico a tutti quelli che vengono ad usare il coupon in negozio. Quindi è veramente secondo me una figata. Allora abbiamo creato la nostra email, andiamo a mettere un oggetto email, quindi grazie per essere... Lasciaci una recensione, vabbè qua possiamo mettere anche volendo il nome nell'oggetto. Salviamo, abbiamo configurato l'email e ci basterà a questo punto avviare il workflow. Adesso facciamo una simulazione perché vi mostro cosa arriva. Quindi invece di attendere un giorno, che magari sarebbe quello che faremo attendere, facciamo attendere zero minuti. Zero minuti da quando la persona quindi utilizza il coupon e arriva l'email. Andiamo a vedere e facciamo una prova. Quindi andiamo nella nostra parte di coupon, la nostra campagna Facebook Ads. Marta viene in negozio, sì ho il codice coupon DGMLVV. Bene, ok, brava, perfetto. Acquista, segna come utilizzato. Benissimo, ora qua vediamo che il coupon è stato utilizzato. Se andiamo nella parte Automazioni Workflow torniamo al nostro workflow vediamo che qui c'è un contatto che a cui è stata inviata questa email. Andiamo a cercare, vi mostro quindi nella mia casella email. Vedete che qui è arrivata l'email che avevo compilato a caso, bla 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 e qui avevo il button per richiedere la recensione. Questo processo qui come vedete è assolutamente tutto automatico. Il cliente viene in negozio, usa il coupon e gli arriva in automatico la richiesta di recensione. Tra l'altro io adesso ho aperto l'email quindi andiamo a vedere se vediamo il dato nel workflow. Andiamo ad aggiornare le statistiche e vedete che è un destinatario che l'ha aperta. Se andiamo poi nei dettagli vediamo che il destinatario e chi ha aperto l'email è proprio Gesiato Marta. Vedete che è davvero molto carino questo flusso. Se avete delle domande scrivetemelo poi nei commenti. La recensione è fondamentale se volete anche qui capire un po' di più sul perché la recensione è fondamentale vi lascio un video che parla proprio di questo. Bene grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video e ci vediamo come al solito al prossimo video.